E' stato arrestato a Monfalcone in fragranza di reato e dopo un breve marocambolesco inseguimento un cittadino romeno 42enne residente fuori regione. Resistenza pubblico ufficiale, lesioni aggravate e possesso ingiustificato di strumenti atti alla forzatura di congegni di chiusura le accuse nei suoi confronti. La vicenda risale allo scorso 9 agosto, quando una pattuglia civetta del commissariato di pubblica sicurezza di Monfalcone, nel corso di un'attività pianificata dopo un furto di bicicletta avvenuto il giorno prima al parcheggio del Trieste Airport, nei pressi della rotatoria di Largo Marcelliana a Monfalcone appunto scorge un uomo corrispondente alle descrizioni dell'autore del furto. L'uomo era in sella ad una bicicletta nera e ne conduceva un'altra con la mano destra. Intimato di fermarsi, l'uomo in un primo momento rallenta e sembra obbedire. Appena il capo pattuglia gli si avvicina però lo aggredisce spintonandolo e facendolo cadere a terra, poi fugge a piedi verso il parco della rimembranza, costringendo il capo pattuglia, nel frattempo rialzatosi, ad inseguirlo. Per farlo desistere dalla fuga ed evitare che fosse investito, il capo pattuglia aveva estratto la propria pistola e sparato un colpo di avvertimento in aria, essendosi accorto che il romeno teneva in mano anche un oggetto non meglio identificato. Un altro poliziotto contestualmente, procedendo in automobile, era riuscito a bloccare la fuga del 42 nel quale è stato portato in carcere a Gorizia. In mano l'uomo teneva una pinza che nella fuga aveva gettato via. Il capo pattuglia è riportato ferita le braccia con una prognosi di otto giorni.